Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a tutti gli amici all'ascolto al TG8, noi siamo in diretta da Ovindoli con il dottor Giancarlo Bartolotti, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito Bartolotti perché questo pomeriggio ci sarà la prima edizione del Memorial dedicato a Max, un momento molto importante. È un momento molto importante, effettivamente questo Memorial l'abbiamo voluto con grande affetto e grande interesse per quello che lui ha fatto e ha realizzato affiancato dal padre, dal sottoscritto e abbiamo la possibilità con tutto quello che lui ha lasciato e ha voluto di incrementare questa stazione di portarla all'apice facendo un'acqua. Altre interventi e altre opere infrastrutturali in questa stazione. Alle 16 lo slalom parallelo ma una giornata intera dedicata a Max Bartolotti che lo ricordiamo è scomparso prematuramente qualche mese fa. È vero che è scomparso maturamente e non era previsto, cosa che purtroppo ci ha messo in croce all'improvviso e oggi il Memorial è una giornata intera e oggi pomeriggio ci sta. Questo slalom e queste manifestazioni sportive su agli impianti. Io ringrazio il dottor Giancarlo Bartolotti dagli impianti di Ovindoli, Montemagnola e Carmine. Tutto ti restituisco la linea ricordando che alle 16 ci sarà la prima edizione dello slalom parallelo, il Memorial dedicato a Max Bartolotti. Io ringrazio la linea allo studio.